Google Ads, campagne su Google Ads nella rete di ricerca. Oggi andremo a vedere in che maniera impostare una campagna di Google Ads nella rete di ricerca a partire da zero e lo faremo con Fabbi Antichi con il quale ho registrato una serie di video su Google Ads, su ogni singola azione da compiere su Google Ads e puoi trovare i link in descrizione. Adesso andremo a vedere in che maniera realizzare le campagne di Google Ads nella rete di ricerca. Andiamo! Una portante di Google Ads. Grande. Vado? È tutto tuo. E allora condividimi lo schermo. Allora, la rete di ricerca ne potremo parlare le prossime 3-4 vite. Quindi cercheremo di essere pragmatici. La rete di ricerca cos'è? Coloro che vanno su Google e cercano qualche cosa. Quindi andiamo a vedere come ce la facciamo. Ho cliccato su campagne, clicco su più, questo bel più blu. La campagna su rete di ricerca mi dirà nuova campagna. Vado a selezionare quello che voglio che sia il mio obiettivo. Come sempre, è rarissimo che una persona spenda per avere considerazione del brand o prodotto, copertura del brand, sono opzioni che nessuno usa. Quasi sempre si usa vendite, lead. Quindi io voglio contatti, voglio vendere. In realtà è un'informazione ridondante. Possiamo scegliere veramente che cosa vogliamo, che tanto poi è nell'impostazione interna della campagna, determinare come si comporterà. Mi fa vedere quelle che sono le conversioni associate al mio account. Grazie mille, mi fa tanto piacere. E a questo punto dico che voglio fare una campagna che cerca. Ok, andiamo avanti. Perché scelgo una campagna sulla search? Scelgo una campagna sulla search quando io so che c'è una ricerca cosciente di quella cosa che io so andare a vendere. O se non c'è cosciente, c'è una ricerca correlata sulla quale, apparendo, posso deviarti la mia idea. Allora, se ho un e-commerce, la maggior parte delle persone cercherà un prodotto. Facciamo questa ipotesi. Quindi io sto facendo una ricerca dove cerco esattamente il nome del prodotto. In quel caso lì ci saranno le campagne shopping che dominano il mercato, perché loro sono nella fascia in alto, mettono la foto del prodotto, eccetera, eccetera. Ora, la campagna shopping ha il contro che se c'è accanto a me qualcuno che costa meno, rischia di... è difficile emergere in quel contesto, insomma, bisogna un po' smaliziarsi. La campagna su rete di ricerca mi permette di essere un pochino più... Non c'è la foto, sostanzialmente, o almeno c'è molto poco, non è direttamente quella del prodotto. Mi permette quindi di intercettare una persona anche in altri modi. L'esempio più semplice, in un e-commerce comunque posso uscire, perché comunque fa uscire anche gli annunci testuali e è comodo esserci. Ma per tutto ciò che è LID, preventivo assicurazione auto, idraulico A, eccetera, eccetera, la campagna su rete di ricerca rappresenta la quasi totalità di ciò che appare. Anzi, in realtà ho detto una cavolata, perché su idraulico ci sono i local service ads che escono sopra. Però, avvocato A, la rete di ricerca. Quindi possiamo veramente intercettare quello che le persone cercano. Come sempre, fondamentale... Avrebbe senso attivare una campagna search prima di investire il budget nella SEO? No, perché è sempre un cane che si morde la coda. Adesso vedremo nell'impostazione della campagna che con Google Ads possiamo ereditare tanto dalla SEO. Per mille motivi. Facciamo un esempio semplice. Io vado nella mia search console e vedo quali sono le query che mi converto, non so quali sono quindi quelle che per me funzionano bene, eccetera, eccetera. Io da lì so, tipo, se c'ho una query dove sono posizionato male, oppure sopra c'è ADV che mi fotte traffico, la stessa query io la metto nell'ADV. E quindi mi porto subito clienti compranti. Allo stesso modo io mi sto domandando se vale la pena posizionarsi per un'altra parola chiave sempre in organico. Io non so quale sarà il ritorno sull'investimento di quella parola chiave, perché bisogna vedere poi quante persone sceglieranno me, quanti preventivi mi arrivano, quanti diventano effettivamente lavori, eccetera, eccetera. Ecco, in quel caso lì può aver senso fare prima una campagna su Google Ads, mi porto sul sito un migliaio di persone, vedo se questa parola chiave mi converte, se sì, mi organizzo per posizionarmi nell'organico. Quindi ci si dà una mano lungo l'altra. In questo caso però la pagina che tu sponsorizzi deve essere sempre la stessa che vuoi posizionare. Beh, non è necessariamente, non è necessario che sia lo stesso. Nel senso che se la mandi su una landing page magari la conversione può essere alta, poi la mandi su una pagina che vuoi posizionare che è completamente diversa e la conversione non c'è più. Devo essere attento a ciò, ovviamente. Se io aggiungo una variabile poi ne devo tenere conto nel risultato finale. Quindi l'obiettivo sarebbe fare una pagina che metta insieme capo e capo, perché poi appunto la corrispondenza della parola chiave nella landing page, quindi nella pagina di atterraggio è importante per Google Ads. Ah, un'altra cosa per cui si può usare Google Ads è nella SEO non so quale titolo scegliere. Con Google Ads io posso fare due annunci, dove gioco i miei, due annunci o più, dove provo i miei titoli, vedo quale ha il miglior CTR, quale converte di più. E quello che metterà il title del... Esatto. Cioè, uno aiuta l'altro. E con Google Ads si avrò pessimi punteggi di qualità se quella pagina non viene riconosciuta da Google come pertinente con le query che voglio intercettare. Non si può più dividere il mondo in maniera così netta. Quindi, torniamo al nostro link qui. Grazie. Grazie a te. Mi chiede, intanto, voglio visitare il sito web? Eh sì, di solito sì. Quindi mi prendo il mio bel dominio e andiamo a aiutare la Disney. In tutti i video, però, stiamo sponsorizzando Disney. Esatto. Disney mi sta verificando troppo, però. Esatto. Nel prossimo facciamo la Marvel. Poi mi chiede, ma che obiettivi hai? Quindi, oltre alle persone che vengono sul tuo sito, per i quali avrò preventivamente creato obiettivi e conversioni con Analytics, Pixel e Google Ads, mi puoi dire, ti interessano anche le telefonate? Sì, mi interessano le telefonate. Quindi, sceglierò Italia, metto il mio numero di telefono. Visita il negozio. Se ho una scheda su My Business, potrebbe essere interessante per me, appunto, avere anche chi viene al negozio. E lui mi dirà quante persone hanno messo Google Maps, quante persone hanno chiamato dal numero di telefono della mia scheda su Maps, quante sono effettivamente arrivate da me tracciate con i GPS, scindendole fra utenti che ci sono già stati, rispetto a utenti che è la prima volta che ci vengono e quant'altro. Insomma, può essere molto interessante. Download di app. Qualora avessimo un'app, questa si usa molto poco, invio di moduli per lead, qualora noi avessimo abilitato l'estensione dei moduli per i lead, praticamente è una form che ti appare direttamente in SERP, che ti permette di compilare, quindi, la form, lasciare una richiesta di informazioni senza entrare nel sito, cosa molto comoda, bisogna prestare attenzione alla qualità delle lead che si ricevono, perché, appunto, si rischia di avere un approccio ossessivo compulsivo, per cui le persone la compilano in maniera non del tutto cosciente, mettendoci un po' di dati a casa, insomma, lead sporchi, o l'altro problema è che Google, queste qui, automaticamente le salva all'interno di se stesso, quindi uno manualmente dovrebbe andarsi a scaricare un CSV con le lead ricevute in quell'asso di tempo lì. immaginate quanto sia scomodo. Si può fare con un po' di programmazione o con Zapier, Zapier si chiama proprio così, che è un software che ti permette di collegarsi con un hook a Google Ads, e quindi ognuna di queste richieste si trasforma automaticamente, ad esempio, in una mail che riceverete nella vostra normale... Permette di fare delle automazioni fra tu le differenti. Esattamente, esattamente. Quindi io tengo il mio visita al sito web, però, appunto, a condizioni normali, tipo le telefonate le spunterei di sicuro, perché comunque, se uno mi chiama, mi interessa. Sì. Sul canale abbiamo già parlato di un tool simile che è Integromat. Ah, ok. C'è il video, se volete andate a guardare. Questo me lo guarderò anche io, me l'avevo perso. Quindi creano la mia nuova campagna. Mi chiede il mio budget, regaleremo un altro euro, mi chiede a cosa voglio dare la priorità. È un po' ridondante, no? Perché in realtà ce l'avevo già chiesto prima. Qui però troviamo una serie di opzioni. Conversioni, quindi massimizzare il numero di volte in cui avviene la conversione. Che cos'è la conversione? Lo definiamo noi. Facciamo finta che siamo un e-commerce, potremmo avere tante conversioni. Chi si iscrive alla newsletter, chi acquista, chi ci contatta, perché vuole un preventivo personalizzato, eccetera, eccetera. Se invece siamo un avvocato, ci sarà chi compila la form dove ci chiede le informazioni, ci sarà chi ci manda un WhatsApp e via dicendo. Consiglio mio, cercate di usare poco questa strategia. Vi consiglio di utilizzare valore di conversione. Ma se uno dice, ma io non vendo nulla. È vero, ma appunto, tutti i modi in cui una persona li può contattare hanno valori diversi. Quindi appunto, chi ti contatta su WhatsApp, probabilmente rompi scatole. Chi ti compila una form con un sacco di dati è un lead qualificato, quindi avrà un valore maggiore. Se ho la parte e-commerce, la scelta di valore di conversione è praticamente obbligatoria. E bisogna stare attenti a ciò, perché se appunto noi creiamo la conversione dove tracciamo chi mi compila una richiesta di preventivo personalizzato, che non corrisponde all'acquisto, se io metto valore di conversione come strategia, esso mi prenderà soltanto in transaction. Quindi darà valore soltanto alle transazioni. È quindi fondamentale che io vada a dare un valore a colui che mi contatta per una richiesta di preventivo. Non deve essere semplicemente è avvenuta. È avvenuta e vale X. Un X che abbia un peso tale da influenzare l'algoritmo. Se io tutti i giorni ho un e-commerce dove ho un carrello medio da 60 euro, facciamo questa ipotesi, chi mi contatta per un preventivo personalizzato è quello che poi invece mi compra una fornitura da 3.000 euro. Io devo premiare quella conversione lì, perché per me mediamente quella vale 3.000 euro. Quindi devo dire che quell'azione di conversione vale 3.000 euro, così quando metto valore di conversione l'algoritmo inseguirà sì le vendite, cercando di premiare carrelli più alti, ma premierà anche chi mi richiede un preventivo personalizzato perché vale 3.000 euro. Spero di essere stato chiaro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono poi altre opzioni che possono essere utilizzate in taluni casi, ad esempio, l'account è stato appena realizzato, quindi non ho nessuno storico, non ho conversione, non ho un piffero. Che cavolo faccio? Beh, all'inizio posso dire senti, guarda, fammi una campagna dove massinizzi click, portami più click possibili e ti do anche un costo per click massimo, perché sennò rischi di spendermi tanto. Io ti dico, per ogni click non voglio spendere più di 50 centesimi. Vediamo cosa succede. Lui comincerà a girare, accumulo i primi dati, dopodiché, in funzione ai dati raccolti, vedo, comincio a farmi un'idea delle parole chiave, le conversioni associate, raggiunto le prime conversioni e i valori di conversioni, passo la campagna a massimizzare conversioni e valori. Infine, c'è anche l'opzione quota impressioni, questa quando mi serve? Quando io ho l'esigenza di essere il primo che a scasse il mondo. Quindi può essere una protezione. Visto questo, praticamente, quando tu crei un sito e lo metti online, l'unica tua alternativa è Google Ads, inizialmente. per fare andare bene le cose, altrimenti devi aspettare le calende greche. Dentro Google è Google Ads, però potresti usare... Sì, sì, parlo dell'ecosistema Google, ovviamente. Sì, sì. Beh, prima che la SEO ti si posizioni, se non fai qualcosa di virale, che quindi può essere virale su YouTube o può essere virale su Discover o sui social, che conosciamo tutti... rischi che passa un anno. Esatto. Quindi Google Ads, cioè, non esiste progetto grosso che non usi grosso. redditizio, mettiamola così, che non usi anche Google Ads. Che vuole luce. Se usa solo Google Ads sta sbagliando qualcosa, se sta usando solo un'altra cosa sta sbagliando qualche cosa. Queste cose qui funzionano benissimo insieme. Insieme. da sola tutte ti danno una visione mia della questione. Quota impressioni, vediamo se... La quota impressioni, la percentuale di impressioni che gli annunci ricevono rispetto al numero totale di impressioni che potrebbero ottenere. Che cosa significa? Che se ogni giorno questa cosa viene cercata da mille persone, io gli voglio dire, guarda, che se ogni giorno mille persone cercano questa cosa, io so, facciamo l'esempio, che è un'assicurazione e ogni persona cerca questa cosa due volte al giorno, cioè, pardon, prima di acquistare, ripete questa ricerca tre, quattro volte, in teoria a me basterebbe essere presente il 25-30% delle volte perché quella persona comunque mi trovi, no? Tanto io ripeto questa ricerca quattro volte. In realtà, quando è che si usa questa? Quando voglio essere primo per forza. Perché io gli posso dire posizione annunci nella parte superiore, in prima posizione nella parte superiore della pagina dei risultati. Perché questo? Mettiamo la protezione del mio brand. Se c'ho un concorrente che mi frega il brand, devo essere primo. Oppure, c'ho una parola chiave che, appunto, chi la cerca, il primo che trova è quello che vince. Io devo essere il primo. Sì. Quindi lì i CPC saranno probabilmente altissimi, ma, appunto, mi è utile, mi è economicamente vantaggioso farlo. Se no, valore e conversione. Quindi, io ritorno sul mio valore e conversione, fra l'altro, posso mettere un ROS, cioè, classico discorso, caro Google, la mia marginalità media sul prodotto è del 20%, quindi, siccome ci voglio guadagnare anch'io non solo te, io non ti posso dare più soldi di quanti ce ne sto guadagnando. In altre parole, io voglio che mi rimanga almeno il 10%, quindi Google, io, per ogni 10 euro che ti do, te non puoi spendere, 10 euro sono il 10% del, il 10% del, di quanto sto spendendo, quindi, pardon, di quanto voglio fatturare, io, te mi devi fatturare almeno 100 euro, io ti do 10 euro, te mi fatturi almeno 100 euro, io avrò quindi una marginalità di 20 euro su 100 euro, 10 sono quelli che devo dare a te e 10 sono quelli che rimangono a me. Quindi, questo è il ROAS, che è una cosa utile, può essere comoda. Altre impostazioni, rotazione di aggiungi, devo assumere un'altra persona se no, i pacchi non ce la faccio a farli, quindi comincia ad arrivare le recensioni negative. Ah, sì, certo. Quindi, ci sono mille possibili colli di bottiglia. Utilizzare un ROAS target è quando è che tipo lo usi? Mettiamo che io ti do 10.000 euro al giorno, ti sparo un numero grosso e ti dico, per me li puoi spendere anche tutti, a patto che tu mi garantisca un certo ritorno sull'investimento, no? Questo va benissimo se io vendo un prodotto virtuale. Quindi, questo prodotto mi va in hype e quindi un giorno ne vendo 3.000. Perché non hai magazzino, là. Esatto. Ma se io ho un magazzino per davvero, io devo non solo garantire un certo ritorno sull'investimento, ma anche una certa quantità o una fluttuazione che sia scalabile. Mi devo organizzare per gestire quella roba. E dire 10 pacchi, mi metterà bene uguali. Questa è una cosa che, attenzione tipo ai Black Friday, no? Ai Natali, arrivo sotto Natale e mi vanno due persone in ferie perché è Natale e mi arriva il contemporaneo e il picco dell'ordine. Io a gennaio mi ritrovo 150 recensioni negative, e chiudo. Perché questo poi è la sintesi, no? Cioè, bisogna starci attenti a questa roba. Ottimo. Quindi va contestualizzata. Tutte queste cose non sono giusto sbagliate. Vanno viste. Dove voglio pubblicare i miei annunci? Sulla rete di ricerca. Però mi dice, guarda, io ho i miei partner, i partner sono aziende che si fanno, noleggiano a Google il motore di ricerca. Consiglio mio, disattivatelo. È rarissimo che sia utile attivarlo. Rete display, altrettanto, non fatelo qui la rete di display, fate una campagna di display dedicata, così avete un controllo più accurato. Se volete farla, ne fate una dedicata. Dove voglio pubblicare? In Italia, eccetera, eccetera. Possiamo uscire per raggio. C'è anche una parte della rete di display che Google Ads utilizza quando ha saturato il budget nella rete di ricerca e quindi utilizza quella. Allora, diciamo che se te gli hai la tiani aperta, lui va anche lì. Quanto e come, non è chiarissimo, no? Comunque è laborioso determinarlo. Diciamo che se te gli dai certi soldi, soprattutto se non hai vincoli di rosa, ma tipo di click, se lui in display riesce a trovare click economici, cosa molto probabile perché in display costano meno, lui massimizza il click, ad esempio, ti porterebbe tanti click al display, ma sono click di qualità? Quindi a quel punto lì poi diventa difficile scendere click buoni da click non buoni, insomma, separati. Discrizione geografica, se pensate a Facebook, il raggio minimo è 17 chilometri, su Google Ads potete andare precisissimi sulle località, cosa molto utile. Addirittura, insomma, puoi quasi arrivare al quartiere, quindi questo è un quartiere bene, questo è un quartiere meno, io voglio essere visibile. puoi segmentare anche qui, invece di mettere tutta Italia, vi consiglio di inserire le regioni separatamente perché vi renderà più facile dopo vedere qual è la regione che ha le migliori performance e chi invece ha le peggiori. Lingue, come sempre, vabbè, possiamo scegliere mille lingue per gli obiettivi, possibili mille diversi obiettivi, esempio semplice, faccio un wine tour gastronomico rivolto agli americani e la mia campagna sarà a Firenze e all'aeroporto e al porto di Livorno perché sbarcano lì, all'aeroporto di Pisa perché un po' sbarcano lì e in centro a Firenze per soltanto persone che parlano inglese, no? Pur essendo una campagna già localizzata in Italia, però a condizioni normali parliamo agli italiani, ma un po' di italiani hanno comunque il browser in inglese per cui noi metteremo le nostre parole chiave in italiano, ma vi consiglio di selezionare appunto come lingue anche l'inglese perché molti italiani potrebbero utilizzare il browser in inglese, quindi la giungo. Segmenti di pubblico, in questo momento i segmenti di pubblico a noi non ci interessano perché noi definiamo chi vogliamo intercettare con le parole chiave che andiamo a inserire. Possiamo però, vedete, osservazione consigliata, questo utilizzarlo e quali utilizzare tutti in questo caso. Quindi, dal momento che questo è un'osservazione significa che non restringe la copertura della campagna con le opzioni di aggiustamento selezionate, praticamente ti dice solo guarda, delle persone che ti ha intercettato io lui lo identifico in quel segmento, io lui lo identifico nell'altro. Questo ci serve perché un domani appunto a ritroveso possiamo andare lì e vedere tutte le persone che ho beccato, dove sono. Ah, guarda, questo segmento in effetti è interessante. Quindi, se domani devo scindere la mia campagna, dividerla, farla crescere o restringerla perché è un momento di magra, ho già raccolto i dati su quali sono i segmenti per me più performanti e quindi da osservazione sposto quel segmento a target. Ok. Ti sono spiegato? Sì. Quindi adesso, adesso non lo metto, però in osservazione io prenderei tutto. Tutto quello che volete, mettetelo, più informazioni c'è, meglio. Imposta automaticamente, allora, impostazione degli annunci dinamici della rete di ricerca, questa è quella che si chiama DSA, di solito, Dynamics Hs. Qui dobbiamo inserire il dominio. Attenzione, quando inserite il dominio perché se fate così, come siamo abituati a fare su Google, cioè mettere il dominio per il stesso, vi dà errore. Se fate così, con www, vi dà errore. Dovete fare così. Dovete togliere tutto ciò che c'è davanti. In dei casi dà del loro uguale. In quel caso lì, salvate la campagna e poi dopo lo aggiungete. Tornate nelle impostazioni e lo aggiungete. Qui scopriamo una cosa interessante. Seleziona la lingua degli annunci dinamici della rete di ricerca in questa campagna. Qui la lingua sarà una sola. Quindi non ne puoi avere più due. Quindi se ti devi fare una DSA che parla sia agli inglesi che agli italiani, devi farle separate. Devi fare due campagne. Ora, in realtà, vi dirò, nel momento in cui, dopo ci andiamo e arriviamo più nel focus, quando accendiamo una campagna DSA, una delle strutture prevede che noi creiamo dentro la nostra campagna alcuni gruppi di annunci dove andiamo a mettere le nostre parole chiave. Si chiamano gruppi di annunci standard. E poi creiamo un gruppo di annunci dinamico, che è questo qui della DSA, dove mettiamo in negativo le parole chiave che abbiamo utilizzato negli annunci manuali fatti da noi. E lasciamo a lei la possibilità di girare sul resto. Resto che, lo vedete, lo possiamo definire già da qui, no? Quindi tutte le pagine del mio sito web oppure gli diamo un feed, un mix delle quali, che poi andiamo, insomma, a filtrare. Questa struttura si chiama AgaCore, più o meno. Questo è uno dei modelli. Io, personalmente, mi trovo meglio a fare campagne separate. Quindi, faccio la mia campagna sul rete di ricerca standard, dove metto le parole chiave e faccio la mia ricerca. Poi faccio un'altra campagna che avrà solo la parte DSA, dove ovviamente metto in negativo ciò che ritengo di mettere in negativo, ma hai un controllo più accurato, quindi io preferisco fare in quel modo. Lascio impostato così, pianificazione annunci, mi va bene. Ok, andiamo avanti. Ok, gruppo di annunci. Qui adesso lui mi chiede, nell'annuncio DSA, vedi, adesso mi sta facendo compilare il gruppo di annuncio dinamico. Quindi qui gli vado a dire che voglio tutte le pagine del sito web, oppure voglio delle pagine specifiche, ad esempio, tutte quelle che contengono Pippo, perché sono Disney. No, qui mi chiede l'URL. Crea una regola, quindi posso scegliere categorie, contenuto, titoli, URL, io scelgo URL che contengono Pippo. Quindi è la campagna DSA che Disney sta facendo per promuovere i contenuti di Pippo. Quindi l'ho fatto, bene, qua sotto mi fa creare l'annuncio. l'URL e i titoli vengono generati dinamicamente dalla campagna scegliendo fra quelli coerenti con il filtro che ho messo sopra. Sotto dopo ciò mi sa questa cosa. No, ma è eccezionale. Ora, questa roba quindi in realtà è già vecchia, perché oggi c'è Pmax che contiene tutto ciò. Quindi la DSA la si adotta su account dove non si ha Pmax quasi sempre, o dove Pmax è confinata alla parte shopping. DSA invece prima era una delle campagne più importanti. Anche perché il fatto che automaticamente si prenda la roba, pensate se avete un sito con migliaia di articoli, un e-commerce, eccetera. Ma quanto tempo ci vorrebbe fare una campagna dove vado a selezionare parole chiave prodotto per prodotto che poi mi cambia prezzo, che poi mi cambia il titolo, mi cambia la disponibilità? lì poi fa tutto in automatico. Quindi se la impostiamo bene fa un ottimo lavoro. Utilizza le estensioni, il sitelink, il callout, insomma tutte le estensioni di valore dell'account? Sì, va benissimo. Che sono gratuite queste, non paghi di più se le utilizzi? No, non paghi di più. Anzi, migliorano il punteggio di qualità quindi le estensioni le devi avere. Nome, campagne, eccetera, eccetera, eccetera. Io ricordo che un tempo si pagava per queste cose o ricordo male? No, non è che paghi per avere queste cose. Se uno ci clicca è comunque un clic, quindi è comunque un clic a pagamento. Allora, abbiamo il nostro bel gruppo di annunci. Adesso vi dico che ne faccio uno nuovo. Nuovo gruppo di annunci perché ci ha fatto saltare l'annuncio classico, no? Ci ha fatto fare il VSA. Quindi standard, no? Quello che abbiamo fatto prima è dinamico. Nel gruppo di annunci standard ovviamente dategli dei nomi che vi permettano di riconoscerli. Eccolo qua, parole chiave. A questo punto voi potete dargli un dominio, ad esempio, e lui vi suggerirà quello che lui, secondo lui, è coerente con quel dominio. Pensateci a una cosa del genere perché se appaiono lì parole chiave non pertinenti è un casino. Vuol dire che Google ha un'idea errada. Vi siete presentate male a Google. E qui, infatti, guardate quanto ce ne dice. Tutte queste parole chiave qui, ad esempio, lui me le ha già prese, va bene, va benissimo, me le ha già prese. Che vengono... Ok, sì. Prendiamone un po'. Sa che le ha già prese tutte lui. Salve e continua. Ora, in merito alle parole... E adesso mi fa creare un annuncio. Questa volta l'annuncio ha 15 titoli, 4 descrizioni, eccetera, eccetera. Qui mettetene tante. Fate, tipo, il primo annuncio dove mettete tutti i titoli. Poi, come vedete, qui c'è una pennetta per cui gli potete dire mostra solo in posizione 1 perché lui li ruota come gli pare. Ruotargli come gli pare molto spesso è premiato da Google. Quindi voi create un annuncio dove ci mettete tutti i titoli e gli dici fai come ti pare. Poi create un clone in quell'annuncio che probabilmente per Google è meno bello ma voi sapete essere più efficiente e quindi date un ordine a quelle che sono importanti. Quindi, titolo 1, 2, 3 compongono la frase completa. Scopri nuovi film Disney, la più accurata selezione, disponibile online gratis. Tum, tum, tum. Così ha un senso. Se invece Google ti rimescola c'è una fase di apprendimento per cui ti escono a cavolo. Non hanno tanto senso. Finita lì. È molto semplice. Poi qua sotto appunto ritroviamo le estensioni e quant'altro. Volevo farvi vedere una cosa perché appunto, fammi un attimo tornare indietro. Annullo estensioni di chiamata, sitelink, tutti i titoli, gruppo di annunci, X, esci. Eccoci qua. Allora, cosa ho fatto? Adesso devo tornare dentro la campagna. Eccola qua. Qui ho i miei due gruppi di annunci. Stanno ancora caricando. Standard è quello che ho creato adesso, quell'altro è dinamico. Qui li abbiamo entrambi. Uno dei temi caldi nella storia di Google Ads è la corrispondenza delle parole chiave. Non so se vi ricordate, no? Una parola chiave può essere fra parentesi quadre, fra doppi apici o con dei più davanti. Ora, Google è molto cambiato negli ultimi anni. Nella maggior parte delle campagne che esistono oggi le parole chiave non esistono più e non esistono più nemmeno i termini di riceve. Se siamo in un settore particolarmente competitivo con volumi chiari, precisi, eccetera, o appunto in nicchie, ha ancora senso oggi utilizzare corrispondenze appunto dove andiamo a dire guarda, questa la voglio in esatta, questa la voglio a frase, insomma, esatta cosa significa. Un tempo era se io scrivo scarpe rosse. Io se scrivevo scarpe rosse il mio annuncio usciva. Se scrivevo scarpe rosse col tacco, se scrivevo scarpe donna rosse e qualsiasi variante, no. Se invece era frase significava che andava bene qualsiasi cosa che cercasse che contenesse le parole chiave, la parola chiave che ho messo io nell'esatto ordine in cui l'ho messa io. Se era generica era Google Faité. Oggi Google Faité funziona meglio. Quindi a meno che io non abbia volumi piccolissimi, settori iper concorrenziali dove bisogna stare attenti a dei termini iper dettagliati, la generica sta diventando la chiave principale. Ha senso. Ovviamente è importante utilizzare roba del genere e funziona se si ha un ottimo tracciamento delle conversioni e quant'altro. Senza un buon feedback dell'operato di Google Ads la campagna va male. Quindi la generica massimizza il valore di conversione e massimizza le conversioni funziona bene solo se queste conversioni noi effettivamente si tracciano. Perché se non si tracciano è finito tutto. Adesso vado a mettere la in pausa. Questo è come si fa una campagna sui reti di ricerca. Poi ovviamente potete immaginare che ci sono milioni di cavigli e cavilletti. Potete andare a fare estensioni dedicate ai singoli gruppi di annunci. Potete giocare con le corrispondenze. Quindi fate un gruppo di annunci dove mettete le corrispondenze esatte. Poi fate un gruppo di annunci dove mettete le corrispondenze a frase e mettete negativo quelle esatte. Vedete che performance ottenete. C'è una certa differenza. Andate piuttosto che quando aprite le parole chiave vi fa vedere le parole chiave che voi avete messo e l'efficacia che hanno avuto. Ma se io invece vado in termini di ricerca vedo esattamente che cosa ha digitato l'utente. Quindi qui uscirà roba che va tolta perché è fuori target e roba che va aggiunta perché dice ah questo non ci avevo pensato ma corrisponde benissimo a ciò che io voglio vendere e quindi lo voglio aggiungere come parola chiave. Insomma poi c'è tanto tanto operatività anche da fare per mantenere e ottimizzare la campagna. Penso di aver riassunto i punti salienti della campagna. Spero perlomeno. Grazie mille Fabio. Grazie a te. Grazie per l'esperienza che hai condiviso con noi. Ci vediamo al prossimo video. Grazie Marco. A presto. Ti ricordo che all'interno della descrizione di questo video troverai i link a tutti i video che abbiamo registrato all'interno della serie di Google Ads e quindi potrai prendere informazioni aggiuntive su come si utilizza questo tool per fare le campagne pubblicitarie attraverso la rete di Google.